Ognuno di questi miei amici sta pensando e immaginando di essere in una pineta oppure e arriva al mare. La facciamo semplice è che è passeggiata. Di farli sudare, quindi proveremo ad aumentare ancora la nostra camminata. Proviamo a cambiare posizioni. La facciamo semplice. La facciamo semplice. La facciamo semplice. La facciamo semplice. avevo sentito il siglo BIGHT 考ело ps4 ho 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 oh ho ho ask valentina walentina ho 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 oh ho ho secondo te per far scegliere bastine nel nostro cuore e recuperare un po' di fiato ora ricominciamo a lavorare noi pensiamo sempre a Valentina che rimane a piedi per strada la sua macchina non parte e allora G67 sparte, sparte, giù sinistra e continuo